Stefano Pezzola per Arezzo Web Informa, siamo qui con il nuovo direttore di Confese Ercenti, Valeria Alvisi. Sì, salve. C'è stato questo passaggio importante in Confese Ercenti. Ieri c'è stata appunto l'assemblea elettiva, abbiamo confermato tra l'altro anche la presidenza di Mario Landini come presidente provinciale e quindi in un segno di continuità. Poi la vera novità appunto è stato il cambio alla direzione, quindi d'ora in poi c'è un direttore donna in Confese Ercenti. Per la prima volta una donna a dirigere Confese Ercenti? Sì, esatto, per la prima volta e questo è un bel segno, credo che sia motivo personale sicuramente, insomma di soddisfazione e d'orgoglio, però anche per l'associazione avrà un significato anche di un nuovo corso. In questo momento tante attività sono in difficoltà, siamo in zona gialla, in Toscana, qui ad Arezzo, le attività hanno riaperto ma con tante, tante, tante limitazioni ancora. Sì, la situazione è ancora parecchio difficile, le attività sono in difficoltà perché comunque le restrizioni e limiti sono tanti, non solo nel settore della ristorazione ma in generale pensiamo al coprifuoco, alle limitazioni negli spostamenti, quindi c'è ancora un turismo da far partire e siamo purtroppo ormai nella stagione estiva alle porte e si è non già partita. Quindi il lavoro da fare è ancora tanto, io sono ottimista perché credo che comunque nei prossimi mesi questo periodo andrà verso la fine e spero ecco che il Covid verrà sconfitto presto grazie ai vaccini, però le aziende ancora stanno soffrendo anche se appunto piano piano si cerca di ripartire. In molti chiedono diciamo l'abolizione del coprifuoco perché per tante attività, soprattutto quelle di ristorazione, chiudere alle 10 vuol dire non riuscire a fare i due turni, quindi spostare il coprifuoco se non si può abolire di un'ora, di un paio di ore, per loro vorrebbe dire tanto. Sì, io credo che il coprifuoco abbia questo problema sia di limitare l'attività dei ristoranti, chiaramente dei pubblici esercizi e quindi come confesercenti a livello nazionale naturalmente chiediamo perlomeno il prolungamento dell'orario, ma l'ideale appunto sarebbe la sua abolizione. Credo che poi oltre al problema della ristorazione ci sia proprio quello dell'accoglienza del territorio, perché comunque, ripeto, siamo a inizio estate e credo che pensare di ospitare dei turisti in una città o in un paese in cui alle 10 bisogna andare tutti a letto, insomma, sia molto complicato far ripartire il turismo anche nella nostra realtà.